su Stetfast immagini. Buonasera a tutti eh benvenuti alla terza diretta sulle pagine del Centro Sud di Machiavelli saluto gli oratori Nicola De Felice ammiraglio di rivizione e già comandante di fregate col caccia torpediniere addetto militare in Tumisia e consulente operativo a Parigi ha ricoperto delicati incarichi presso lo Stato Maggiore della Difesa e della Marina nei settori strategici e finanziari diplomatici e degli armamenti responsabile dei centri di eccellenza italiani nella Nato ha comandato la Marina in Sicilia negli ultimi anni di servizio. Abbiamo anche con noi Emanuele Di Leo fondatore presidente di Stetfast Onlus organizzazione di cooperazione internazionale manager dello sviluppo istituzionale ha ricoperto precedenti incarichi presso la congregazione delle missionarie figlie del Calvario e presso l'Ateneo Pontificio Regina Postolorum da otto anni è membro del governing board dell'International Bio Research Institute in Nigeria è anche membro fondatore del Family Day difendiamo i nostri figli poi abbiamo sempre con noi il presidente del centro studi Machiavelli e ci sono io che è Bernal Leone responsabile del dipartimento migrazioni per la Lega di Roma. Allora oggi abbiamo un tema diciamo che viene trattato con molta con molta ideologia anzi non diciamo possiamo dire che è un'affermazione pratica in quanto tutti ci raccontano la maggior parte delle volte non dico sempre ma la maggior parte delle volte la realtà delle migrazioni e di quello soprattutto che succede nei vari territori sotto punti di vista che appunto in parte sono veri ma in gran parte sono diciamo così eh fatti a modi fiction eh per questo abbiamo oggi con noi eh soprattutto i due interlocutori Emanuele Di Leo che ha eh questa onlus che si occupa di 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 aiuto eh di formazione in Africa proprio sul territorio quindi in campi insomma eh dove vede e dove si dove consta quello che che accade ma vi faccio raccontare da lui nello specifico eh quello che fanno sul territorio e quello che accade eh sul territorio. Prego Emanuele. Salve buongiorno a tutti e grazie insomma di questo invito di questa opportunità che è molto importante per poter affrontare questo tema assai spinoso e di attualità eh appunto mi occupo eh di cooperazione internazionale con Steadfast che è la nostra organizzazione e mh e agiamo principalmente nel territorio subsahariano in Nigeria lo facciamo da dieci anni e e appunto attuiamo la cooperazione internazionale ma principalmente abbiamo tutta una progettualità che eh contrasta eh le tratte e gli esseri umani quindi proprio per questo diciamo che il tema immigrazione a noi è molto sensibile proprio perché eh l'immigrazione clandestina è la madre di tutte le tratte infatti da essa eh si eh sviluppano e eh si eh attuano tutte le ulteriori tratte quindi prostituzione, droga, reciproco del denaro eh e via discorrendo. Eh quindi in questo eh frangente di pochi minuti cercherò eh di darvi un po' una visuale su quello che succede nei territori eh africani. Eh l'immigrazione appunto clandestina è un vero e proprio business eh dove il vero principale problema per lo meno per noi occidentali è il non saper gestire eh questo fenomeno proprio perché si spendono ingenti risorse eh nella gestione del territorio quindi del nostro territorio in Italia eh quando in realtà bisognerebbe cercare di più di sviluppare la cooperazione internazionale nei territori di provenienza degli immigrati proprio per evitare eh diciamo questo ehm questa questa venuta in occidente da parte loro questi viaggi della speranza. Principalmente su ehm per quanto riguarda l'immigrazione clandestina eh c'è una condivisione anche addirittura di prezzi. All'incirca ogni immigrato clandestino paga sui trentamila euro per poter sbarcare in occidente quindi nella nostra Europa e eh i prezzi variano anche dalle varie aree diciamo la subsariana è quella meno costosa proprio per via della eh ingente povertà mentre ad esempio l'area siriana è quella più eh costosa per una persona per un siriano costa l'incirca eh diecimila euro in contanti subito e il restante poi in opere eh sul territorio. Principalmente voglio focalizzare eh che il novanta per cento degli immigrati clandestini che entrano entrano tramite eh tratte tramite organizzazioni criminali che eh come spiegavo prima ehm a loro volta gestiranno l'immigrato sbarcato eh in Europa maggiormente in Italia perché il primo porto di approdo è proprio quello ehm suddividendoli in prostituzione, droga, riciclo del denaro, traffico di droga, traffico di di organi e c'è veramente un vero e proprio business. Questo però non fa sì che ci sia una sola organizzazione a gestire questo ma nel percorso del viaggio, i famosi viaggi della speranza che partono dall'Africa subsariana ad esempio dalla Nigeria eh questo viaggio è suddiviso in tappe e per ogni tappa eh l'immigrato in questo caso la vittima della tratta eh viene venduta a un altro clan il quale percepirà dei soldi per quel percorso che ha fatto fare fino ad arrivare a a Tripoli in Libia eh principalmente in Libia per poi dopo tramite le barche andare eh affrontare il Mediterraneo per poter entrare eh in Europa. Eh è un fenomeno molto pericoloso eh difficilmente gestibile anche una grandissima confusione ehm una grandissima grandissima confusione anche nel conoscere eh il il territorio ad esempio ultimamente sentiamo molto parlare di mafia nigeriana ripeto io da nove anni sono presente in Nigeria e e quello che è noto è che ci sia eh un po' di non conoscenza del territorio ehm si parla di gruppi criminali come Black Axe e quando in realtà eh non sono gruppi criminali ma eh sono delle degli assembramenti delle delle associazioni diciamo universitarie che erano nate negli anni cinquanta eh da eh dei ragazzi che erano stufi di vedere eh le proprie ragazze abusate dai professori e quindi si sono riuniti in gruppi le famose confraternite un po' stile anglosassone mi sentite sì? Pronto? Ti sentiamo ti sentiamo. Ah ok perfetto scusate. Forte chiaro forti chiaro. Togliamo l'audio evitiamo rumori di fondo. Ah sì ok perfetto. Ehm dicevo appunto che si sono assembrati in queste eh confraternite universitari che poi negli anni sessanta settanta sono state utilizzate dalla politica per fare attività politica ma principalmente sono dei gruppi ehm universitari o delle confraternite che si uccidono tra di loro cioè nel senso se io sono di Black Axe eh e voi siete di EIE se ci incontriamo io proverò a uccidere voi e voi proverete proverete a uccidere noi. Ehm ma se voi non appartenete a nessuna confraternita non ci sta un una rivalità o una volontà di uccidere l'uno o l'altro. Questo che cosa ha fatto sì? Che eh nel momento in cui il nigeriano seguendo il percorso appunto della tratta per poter arrivare in occidente arriva nei territori e possiamo dire tipo di Baia Domizia insomma di di quei territori dove c'è molta affluenza di questa presenza eh di eh immigrati eh maggiormente legati a cosche criminali la il primo intento che che avrà come persona che da un paese straniero va in un altro paese è cercare un altro nigeriano. Se putacaso eh quel nigeriano è della sua stessa tribù o della sua stessa identica confraternita tipo Black Axe o EIE diciamo che è molto fortunato. Ma nel caso che eh quel nigeriano troverà di fronte a sé magari se lui è di Black Axe un membro di EIE sicuramente non farà guerra ma essendo nigeriano eh creerà un' alleanza e e questo fa sì che mentre in Nigeria questi gruppi si fanno la guerra l'uno con l'altro nei territori esteri questi gruppi eh vanno a collaborare. Tenete presente che ogni confraternita è eh sita principalmente in un determinato territorio. La Nigeria è una confederazione di stati eh e ogni territorio eh ci sono delle presenze di alcune tribù. Quindi molte confraternite combaciano con determinate tribù tipo eh abbiamo sentito gli Oruba dalle varie cronache anche italiane Oruba, Ibu eh e via discorrendo. Eh quindi principalmente l'azione della confraternita è molto simile a ehm a dei modi di fare eh della determinale delle tradizioni di eh appunto queste eh determinate tribù. Eh e qui nasce un po' la confusione eh che io noto proprio perché questa mancanza di conoscenza del territorio ha fatto sì che un grande cavallo di battaglia anche magari un eh dare un appellativo a a una criminalità eh come mafia nigeriana ha eh di fatto ehm dato un'autorità ha dato una un'importanza a questi gruppi criminali. Allora tenete presente che ehm i gruppi criminali nigeriani non sono piramidali. Sono orizzontali. Smontata una cellula non si andrà mai a ripostruire. Però adesso sta eh succedendo un fenomeno molto particolare. Proprio questo appellativo di mafia ha fatto sì che eh tenete presente che i nigeriani sono molto astuti e intelligenti anche come diciamo tutta la parte della costa d'Avorio eh che sono ad esempio nella costa d'Avorio sono specializzate per quanto riguarda le truffe eh monetarie eh quelle fatte tramite tramite internet. Ehm quindi si sono si stanno iniziando da organizzare questo proprio da colloqui avuti con il capo della polizia dello stato di Enugu in Nigeria proprio lo scorso agosto in un mio un mio recente viaggio eh mi stavo appunto raccontando che si sta creando un serio problema anche lì in Nigeria perché mentre in Nigeria questi gruppi criminali si fanno guerra tra di loro eh adesso dall'Italia e da altri stati europei stanno arrivando informazione a questi gruppi eh di dire no no non facciamoci la guerra tra di noi anzi facciamo squadra perché eh in Europa ci chiamano mafia hanno molta paura di noi eh e questo sta creando seri problemi anche in Nigeria. La base di tutto questo sono le mafie e su questo non c'è dubbio però che ci sia una vera e propria mafia nigeriana ho forti dubbi eh principalmente nei territori italiani eh i nigeriani vengono utilizzati eh dalla camorra eh quello che prima erano i i rom adesso eh sono eh solo sono i nigeriani anche perché è tutto un percorso a staffetta i colombiani utilizzavano i messicani eh come manovalanza per eh per la droga eh i messicani hanno imparato un mestiere e quindi hanno iniziato a produrre eh da soli hanno iniziato a prendere eh gli africani immigrati ehm in in Messico eh e da lì i nigeriani che erano sfruttati dai messicani hanno iniziato a impararsi anche loro una loro eh un loro modo per poter trafficare droga e si sono specializzati quindi ad esempio gli oruba sono molto specializzati in determinati territori specialmente di Lagos eh e Nord eh Nigeria sono specializzati nel traffico appunto di droga eh mentre magari in Benin City che è un po' la patria eh la patria mondiale della prostituzione appunto sono bravi in questo e quindi questi gruppi iniziano a collaborare sotto la grande cupola della camorra per gestire i loro traffici e poter eh e poter sopravvivere quindi principalmente quello che vorrei comunicare io oggi è che eh ci deve essere un maggior impegno del governo non solo nel gestire il problema qui eh nel cercare di evitare che organismi esterni le famose ONG che io chiamo navi caronte ehm portino avanti delle politiche perché vengono mosse da grandi eh gruppi finanziatori eh che permettono loro di stare in nave in mare poi penso che l'ammiraglio saprà dirci molto di più di questo cioè ehm mi ricordo quando ho sentito un'intervista dell'ammiraglio che gestiva l'operazione so Sofia lui diceva io non riesco a capire come fanno queste ONG a stare ventiquattro ore su ventiquattro in acqua quando io le mie navi militari non riesco a tenerle ventiquattro ore su ventiquattro in acqua per il semplice fatto che hanno un costo esorbitante ecco perché c'è un grande movimento di finanziatori eh dietro le spalle di queste organizzazioni quindi sarebbe interessante che il governo inizia a fare dei seri controlli ehm e evitare cioè il problema l'immigrato non deve arrivare in Libia per poi entrare in Europa cioè lì bisognerebbe esempio ci sono molte proposte anche tra cui arriviamo dopo Emanuele ci arriviamo dopo a questo ehm allora eh grazie abbiamo capito che eh sostanzialmente eh la maggior parte degli immigrati non non viene da paesi che vivono una oggettiva difficoltà dovuta a guerre o cose simili perché abbiamo capito che eh i siriani a parte che sono quelli che pagano di più per il viaggio ma sono anche eh la parte nettamente inferiore per dire eh ammiraglio De Felice eh riprendendo appunto da Emanuele Di Leo che eh mi mi ha anticipato il lavoro cosa succede nel mare e soprattutto perché arrivano anche tante barche non solo dalla Libia ma da paesi come la Tunisia e l'Algeria che eh insomma non non vivono in situazioni di 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 disagio oggi Beh innanzitutto eh buonasera a tutti quanti grazie per l'invito e grazie anche eh per l'opportunità mi senti? Lo puoi aprire? Mi senti? Ti sentiamo ti sentiamo bene Ah ecco mi sentite d'accordo? Sì 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 ti sentiamo Allora ripeto eh grazie per l'invito e per la possibilità di espere di esprimere il mio pensiero con voi su questo tema che secondo me è fondamentale per per il futuro dell'Italia e dei nostri figli innanzitutto eh il tema legato al mare vede due flussi di migrazione incontrollata una che giustamente segnalato a te è quello che proviene dalla Tunisia e dall'Algeria quindi dal Maghreb e l'altro da dal più profondo eh eh diciamo sub-Sahara attraverso la Libia eh con due eh c'è diciamo due due eh flussi particolari che sono quelli del Corno d'Africa e quello del e quello del diciamo del sub-Sahara eh ovest che di cui il dottor Di Leo ha così egregiamente eh identificato eh le responsabilità per quanto riguarda eh quindi il flusso che arriva in mare eh c'è da dire che il problema non deve essere considerato solamente un problema di eh interno del ministro dell'interno ma soprattutto il problema è del ministro degli esteri perché eh non esiste ad oggi una strategia chiara e definita su come affrontare eh il problema del eh statuale cioè l'Italia con chi si deve ehm confrontare per evitare il flusso che viene dall'Algeria dalla Tunisia e dai paesi del Nord Africa e come peraltro eh dimostrato eh recentissimamente col fatto che nel duemila e venti nel fino ad oggi i i i 6.195 sbarcati in Italia che sono il triplo rispetto all'altro anno sono per la maggior parte del Bangladesh 1.128 tunisini mille e poi a seguire ivoriani sudanesi algerini marocchini quindi sono evidentemente delle etnie che identificano chiaramente il fatto che non è la guerra non è il popolo diciamo eh africano in difficoltà per motivi umanitari o per motivi diciamo legati a qualche situazione belligerante ma sono soprattutto migranti economici che attraverso delle organizzazioni strutturate criminali eh avviano la la tratta degli esseri umani e in particolare affrontando da una parte degli stati in difficoltà come la Tunisia e e l'Algeria che eh in qualche modo non sono in grado di controllare il flusso migratorio dalle loro coste verso l'Italia e dall'altro la la Libia in particolare dove peraltro il fattore attrattivo delle navi ONG presenti nelle acque eh di competenza libica portano ad avere eh un concorso eh se non eh diretto comunque indiretto delle stesse navi ONG al trafficante di esseri umani che sa benissimo quando la nave ONG si avvicina alla costa e quindi invia il barcone con il la benzina e il vettovagliamento eh necessario per arrivare alla nave ONG non certo per arrivare in Italia quindi come vedete c'è un una una connessione ancorché inconsapevoli diciamo nelle migliore delle ipotesi tra l'organizzazione ONG e il eh il trafficante di esseri umani e il cosiddetto naufroco a pagamento che ovviamente paga per arrivare verso la nave ONG che peraltro ahimè ad oggi eh oltre ad importare in Italia il migrante clandestino eh diciamo sconfessando sia le norme internazionali che le norme nazionali perché ricordo la nave ONG al momento in cui si mette a fare questo traffico primo non rispetta le norme sul soccorso in mare che prevede la competenza del di stati per ultimo l'Italia non certo per prima come ad esempio la la Libia la Malta e la Tunisia che hanno competenze specifiche in ogni attività che oggigiorno eh diciamo eh coinvolgono queste nave ONG e seconda cosa le nave ONG hanno una bandiera una bandiera che non è un uno straccio appeso arriva eh su queste navi ma è una significativo eh importante dell'ordinamento giuridico a bordo di quelle navi e perché se ad esempio facciamo il caso della Sea-Watch che adesso ha cambiato bandiera perché appunto l'Olanda ha cominciato a capire che poteva togliergliela quella bandiera e quindi poteva negare il diritto di navigazione a quella nave la Germania ha assegnato la bandiera tedesca alla Sea-Watch 3 che in questo modo ha il diritto di navigare nelle internazionali però dal punto di vista diciamo della normativa internazionale in particolare del regolamento di Dublino è la stessa Germania che avrebbe dovuto più volte assumersi la responsabilità dell'avvio del processo di protezione dei migranti clandestini a bordo di quelle nave perché quella nave è territorio tedesco quindi ecco che a questo punto ricollegandomi al discorso di Emanuele Di Leo chi c'è dietro le nazionali ONG ci sono in particolare grossi finanziatori che hanno evidentemente un'ideologia una volontà specifica una strategia chiara e ben definita di voler destabilizzare l'Europa e in particolare l'Italia e non soltanto dal punto di vista diciamo migratorio quindi umanistico cioè umanitario eccetera ma anche dal punto di vista religioso perché qui stiamo parlando eh della chiesa evangelica tedesca quindi dei protestanti tedeschi che hanno finanziato con milioni di euro la costruzione e la consegna di navi nuove alla ONG eh Sea Watch e quindi c'è veramente una un business che ha ha diciamo i responsabili ben definiti quindi l'Italia oltre a affrontare il problema dal punto di vista diciamo interno e quindi con le procedure che giustamente Salvini aveva identificato dei suoi decreti di sicurezza che ahimè adesso sono stati rimessi in discussione ha un problema di carattere di politica estera cioè bisognerebbe affrontare il tema una volta per tutte incentrando la nostra attenzione verso le ambasciate di quei paesi che hanno eh la bandiera arriva di queste navi quindi Spagna Germania Olanda eh con delle con delle con delle diciamo delle ehm segnalazioni chiare ed ufficiali verso quei paesi che non si attengono alle norme internazionali che sono la legge del mare che sono eh le la convenzione eh di Bruxelles per quanto riguarda il soccorso in mare come che sono la convenzione di Viena per rispetto delle eh del mutuo soccorso perché ricorda che ad oggi sei mila e cento e cento e cinque migranti sbarcati in Italia zero sono stati ricollocati negli altri paesi per cui voglio dire c'è qualcuno che ci che si fa gioco di noi e chi può far gioco di noi è perché evidentemente abbiamo un governo che non è capace di affrontare sia dal punto di vista estero che dal punto di vista interno le tematiche che sono all'attenzione di tutti non solo rispetto a quanto dice lo Stato italiano ma ripeto quello che dice la 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 legge del mare eh lo lo chiarisce perfettamente ma ancora di più il 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 consiglio europeo dei diritti dell'uomo che ha ben definito la non necessità e la non urgenza di sbarcare ad esempio nel caso open arms Gregoretti e Diciotti quei migranti che non avevano alcuna intenzione eh di di che non che non dovevano in alcun modo sbarcare in Italia quindi se non quei se non i minori e quelli che avevano difficoltà quindi non lo dico io perché ho avuto esperienza diretta in queste situazioni ma lo dice eh la norma internazionale lo dice lo Stato italiano attraverso il codice della navigazione lo dice l'Unione europea attraverso il consiglio europeo eh dei diritti dell'uomo se e come si dovesse eh gestire il il problema l'ho già detto tante volte bisogna affrontarlo eh prendendo il lavoro per le corna affrontare con fierezza orgoglio e fiducia nelle norme internazionali che tutti i parlamenti europei hanno ratificato per affrontare il tema sulle sedi sulle sedi giuridiche eh competenti quindi non è che eh uno si nasconde dietro la mancata volontà di accettare questo questo fenomeno il fatto è che chi viene in Italia deve essere controllato chi viene in Italia deve avere un lavoro chi viene in Italia deve rispettare le norme che il mondo internazionale ha ratificato ecco questo volevo dire grazie ammiraglio grazie eh Daniele l'ammiraglio ci ha aperto un tema eh quasi ci ha anticipato quello che sarà la nuova stagione cioè il problema delle persone che la maggior parte di questi eh sono di di un'altra religione sostanzialmente e che eh sostanzialmente una una chiesa protestante sta eh favorendo ecco eh secondo te eh cosa ci porterà questa realtà eh questo questo tipo di realtà sì intanto buonasera eh Bernard e buonasera a tutti io come come di consueto essendo ospite fisso eh non 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 prenderò troppo tempo non toglierò molto tempo ai relatori e la riflessione che facevi però è interessante e credo sia sotto gli occhi di tutti noi abbiamo in questo momento i rappresentanti di una fede eh la fede maggioritaria e storica almeno per quanto riguarda gli ultimi mila e cinquecento anni e oltre dell'Europa che sono molto attivi nel promuovere, irradicarsi e moltiplicarsi di un'altra religione, una religione molto forte nel mondo, una religione eh in questa fase sicuramente anche molto vitale, molto espansiva diciamo così in Europa eh lo fanno richiamandosi indubbiamente a eh dei valori evangelici che 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 possono essere la fratellanza universale e porgere l'altra guance e così via però eh sicuramente credo che anche tanti tanti eh fedeli cristiani in Europa si stiano ponendo questo problema cioè se la solidarietà, l'aiuto, la fratellanza universale debbano arrivare fino a una non solo tolleranza ma attiva promozione di un cambiamento di equilibri eh religiosi in Europa perché è vero che poi eh si risponde ok alla fine i musulmani sono molto pochi percentualmente in Europa ma è anche vero che se andiamo a isolare determinate aree e quindi isoliamo da prima l'Europa occidentale rispetto all'Europa orientale e poi all'interno dell'Europa occidentale isoliamo alcune città, alcune grandi città soprattutto lì vediamo che invece eh le percentuali salgono moltissimo e quindi che si stanno creando effettivamente delle eh enclave, exclave a seconda del punto di vista in cui ehm di fatto c'è un'altra religione che diventa maggioritaria molte di queste aree, una religione per il quale abbiamo in massimo rispetto, una grande storia vi dicendo ma che ha un carattere eh preciso di eh saldatura e sovrapposizione tra il piano della fede e il piano della politica eh la comunità religiosa tende a coincidere anche con la comunità politica tende a coincidere con il diritto e così via e quindi sicuramente pone poi eh in discussione alcuni di quelli che sono dei capisaldi qualcosa che adesso davamo per scontato a meno da partire agli ultimi secoli qui eh in Europa ecco questo per commentare quello che dicevi tu come rapida commento a quello che invece hanno detto i nostri ospiti eh noterei questo mi pare che i loro interventi siano stati perfetti per smontare una narrativa su cui ormai molti moltissimi italiani hanno aperto gli occhi ma che però continua a essere perché è stata spacciata da dai media da parte della politica per anni e anni cioè quella narrativa che ci dice che le migrazioni sarebbe in sostanza donne e bambini eh che si trovano in zone di guerra o che muoiono di fame e che disperati vengono si muovono tra mille rischi verso l'Europa ehm dove ci sono poi dei dei buoni samaritani che li aiutano a non affogare il mare e e e li portano qui dove arricchiscono eh il nostro paese ci portano solo buoni e positivi risultati eh la questa narrativa è molto bella è molto confortante ma non è quella reale perché poi tutti i dati tutte le statistiche ci dicono altro ci dicono che eh le donne e i bambini in realtà sono maggior in maggioranza giovani maschi adulti ci dicono che coloro che scappano dalle guerre in realtà vengono da zone dove la guerra non c'è ci dicono che coloro che in teoria muoiono di fame in realtà come è stato detto pagano delle cifre che per quelle aree alcune cifre anzi anche per per l'Italia sono comunque significative eh segnale quindi che non sono appunto quei quelli che noi vediamo eh nei nei spot di chi raccoglie i fondi per aiutare i bambini che muoiono di fame ma evidentemente stanno magari nel nel certo medio dei paesi di cui provengono e poi veniva detto queste navi di buoni samaritani che hanno dietro comunque dei dei autentici potentati economici poi per carità lo faranno sicuramente lo fanno per interesse per dei loro valori per una loro convinzione ma ecco stiamo parlando di eh una forza economica molto potente che sta dietro l'attività di questo ng e che al di là dei buoni valori che anima non ne ho dubbi coloro che stanno di mare poi anima però anche un florido business dell'accoglienza di cui anche recentemente abbiamo avuto dei campanelli allarme mi sto riferendo a un'inchiesta con alcuni arresti anche eccellenti che c'è stata qui in Italia eh poco tempo fa e l'ultima considerazione molto interessante anche la l'inciso che ha fatto di Leo sulla mafia nigeriana eh ricorda noi come centro studio di Machiavelli ce ne siamo occupati eh sarebbe anzi magari in futuro chissà interessante fare confrontare eh di Leo e Antonio De Bonis l'analista dei carabinieri che occupato per noi perché ehm seppur coincide la descrizione che fanno sotto molti punti di vista ci sono alcuni che non sono coincidenti ad esempio questa definizione di mafia o meno quindi chissà magari in futuro ci potrebbe anche essere un dibattito di approfondimento ovviamente non non di 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 litigio come vediamo nei talk shot e visi ma di approfondimento tra tra loro due. Si è Daniele? Eh posso fare solamente una una precisazione che forse non ero stato chiaro mi sono sovra a qua al lato suo un concetto. Prego 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 vai ehm ripeto una parte dei soldi cioè la cifra totale di una persona che vuole sbarcare eh tramite i barconi eh in occidente è di trentamila euro. I subsariani pagano sei mila euro in contanti subito e eh il restante in prestazioni d'opere quindi prostituzione, traffico di droga e via discorrendo. Mentre i siriani pagano subito diecimila euro perché sono più ricchi e eh i restanti sempre in prestazioni di opere quindi eh su un novanta cento un novanta per cento di eh di persone che ehm che partono. Un'altra cosa molto importante il problema è anche quello della gestione dell'accoglienza qui ehm veramente se uno stato vuole eh fare l'umanitario come come si si presentano ogni volta alcune determinate forze eh vanno gestiti bene i centri di accoglienza eh devono essere regolamentati, controllati eh anche le persone e parlo proprio degli stessi immigrati che vanno in questi centri di accoglienza devono avere un fine eh bisogna veramente creare se uno vuole fare l'integrazione degli strumenti per poterli integrare. Invece mi sembra tutto una grande bolla di sapone che poi eh finisce nelle tasche di eh alcune cooperative e e e è lo stesso ragionamento delle ONG che appunto eh solcano i mari e solcano il Mediterraneo. Grazie Emanuele ecco abbiamo ecco hai precisato una cosa che ritengo veramente fondamentale ovvero il fatto che i soldi di cui parliamo c'è una parte sì che è cash che è quella che ogni tanto viene detto anche dai giornali ma proprio ogni tanto quando quando si sbagliano e c'è tutta l'altra parte che è ancora più sostanziosa che è ancora più grave cioè poi parliamo di lavoro nero, prostituzione, spaccio e questo è tutto lavoro sostanzialmente già pagato di cui si servono le mafie gratuitamente sostanzialmente. Ehm assolutamente sì anche perché poi il vero grande lavoro eh che che lo fa sul territorio sono quelle organizzazioni che liberano le ragazze dalle tratte che cercano di contrastare la droga e e queste organizzazioni non vengono stipendiate da nessuno non hanno organizzazione non hanno uno stato dietro che che le finanzia per poter fare queste opere si autofinanziano con i loro benefattori noi stessi per primi proprio nell'antitratta noi siamo in contatto anche con chi poi aiuta con studi legali che aiutano per poter liberare la ragazza con chi la può accogliere e riabilitare cioè non è una cosa semplicissima e allora io mi domando il governo dove sta andando c'è la nostra Italia dove sta andando per risolvere questo problema quando poi veramente anche in Libia ci sono i famosi centri detentivi eh libici che sono veramente dei dei campi di concentramento eh ok bellissimo dirlo a voce ma praticamente che cosa sta facendo l'Italia cioè allora quindi non sviluppiamo la cooperazione internazionale non gestiamo quelli che sono veramente dei campi di concentramento in Libia quindi cercando con la nostra nazione di dare un appoggio a un governo libico per poter migliorare questa situazione principalmente noi apriamo semplicemente le porte di casa nostra permettiamo alle navi ONG di fare il loro il loro business anche perché ogni persona che viene presa dal mare la ONG percepisce dei soldi dall'Europa eh ci stanno ci sta tutto un meccanismo eh una macchina di soldi è che spesso è troppo spesso forse rimane nell'ombra e nessuno ne parla no? Eh anche io sarei capace domani di comprarmi una bagnarola e mettermi nel Mediterraneo eh per fare il mio business ma è l'azione più giusta da fare o forse è meglio andare in quei territori per cercare di creare sviluppo educazione eh non cambiare la loro cultura ma aiutarli a svilupparla maggiormente a far sì che l'Africa cammini con le proprie mani con le proprie gambe e il problema reale è che forse ci sta eh i governi mondiali non vogliono che l'Africa cammini con le proprie gambe perché eh è piena di risorse e il resto del mondo ha finito le risorse e lo sarebbe interessante lavorare per dare un'indipendenza a questo continente perché penso che dopo eh tanti sacrifici eh se lo merita e ce lo meritiamo anche noi perché è diventata ingestibile questa situazione dell'immigrazione. Ammiraglio ho visto che volevi dire qualcosa vai. Sì no volevo sottoscrivere innanzitutto il fatto che il problema deve essere affrontato in Africa per cui eh le organizzazioni internazionali come l'ONU e il suo braccio diciamo competente che le UNHCR anziché stare a Ginevra nei suoi uffici dorati che invii forze e finanziamenti tali e ne ha sicuramente eh in Africa per creare centri di solidarietà e centri di diciamo di smistamento per chi effettivamente ha necessità di protezione eh per eventuali situazioni di guerra o di o di problematica umanitaria in Africa e possibilmente a sud della Libia. Quindi questo sicuramente eh è una cosa che si potrebbe fare ma che non si fa per cui ancora di più andiamo verso questo approccio ipocrita e diciamo in qualche modo anche poco solidale con l'Italia che invece è costretta ad affrontare il tema da solo da sola e e senza avere effettivamente alcun alcun aiuto dall'Europa dall'Unione Europea che come si sta come è evidente pone questo problema nelle sue ultime priorità lo vedo anche nell'impegno delle delle forze militari del e parlo anche ad esempio della Nato cioè non c'è un'esigenza tale da pensare alla ad affrontare il tema in maniera diciamo univoca eh ponendo in essere tutte quelle ehm capacità attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti del potere delle varie nazioni che non è solamente quello militare ma ovviamente anche quello economico quello diplomatico quello eh informativo eccetera quindi ci si dovrebbe e qui ripeto il problema sta nella politica estera italiana che purtroppo non si fa non si fa sentire non si fa eh valere né a livello bilaterale ad esempio con la Tunisia con l'Algeria eh con Malta eh ad esempio faccio riporto una cosa che mi ha molto colpito noi abbiamo permesso all'Unione Europea di eh far entrare l'olio d'oliva senza darsi tunisino senza darsi in Europa per eh un valore quanto importante stiamo parlando di migliaia di tonnellate d'olio d'oliva ma allora perché e poi abbiamo problemi noi in Italia di esportare il nostro olio allora l'Italia anziché dare il consenso all'Unione Europea del di questo tipo di diciamo di aiuto verso la Tunisia ma perché non parla con la Tunisia e si inquadra il problema non soltanto dal punto di vista interno con interno ma anche dal punto di vista diciamo eh di cooperazione commerciale con la stessa Tunisia e se tu non sei in grado di tenere fronte alla diciamo alla fuoriuscita dei tuoi barchini cosiddetti fantasma dalle tue coste allora guarda che io magari eh sull'olio d'oliva e tunisino ci faccio ci faccio sopra un paio di pensate prima di darti il eh il consenso ecco quindi è una cosa che non è che la posso cioè la la non ho scoperto l'acqua calda è una cosa che fanno tutti i paesi europei lo fa la Francia lo fa la Germania perché loro hanno ben chiaro come si devono difendere gli interessi nazionali che sono poi gli interessi del buon vivere gli interessi dello sviluppo e del benessere del proprio popolo non stiamo parlando di cose campate in aria e questa è una cosa che volevo sottolineare l'altra cosa che è ahimè adesso il problema si sta eh ponendo anche in termini di eh controllo della pandemia perché proprio eh di poche ore fa il il risultato dei ventotto positivi emigranti clandestini sbarcati dalla Sea Watch a Porto Empedocle con tanto di eh protesta da parte del sindaco di Porto Empedocle e di tutta la regione siciliana perché nessuno è stato avvisato nessuno ha ha avuto modo di eh diciamo arginare questa potenziale eh questo potenziale contagio a terra e tra l'altro il risultato è stato è stato che questi eh ventotto positivi insieme agli altri centottanta sbarcati dalla Sea Watch sono eh sono adesso eh diciamo eh ritenuti eh a bordo della del nave traghetto eh Mobi Zazà che eh probabilmente andrà a finire che eh la pandemia si 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 diffonderà attraverso gli altri e anche attraverso l'equipaggio quindi il problema diventa anche di tipo eh diciamo sanitario a questo punto che oltre ad aver importato attraverso i migranti clandestini la scabbia la tubercolosi che era sparita in Italia e e adesso abbiamo anche un problema di coronavirus quindi è un problema eh di 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 potenzialmente molto pericoloso per la prossima estate in Italia. Grazie ammiraglio Emanuele ehm allora volevo ritornare un attimo al a quanto affermati riguardo riguardo i fondi soprattutto perché eh qua si parla sempre di di problema non ci sono i fondi non c'è quello mancano i soldi eccetera eccetera però vediamo che si trovano i soldi per pagare le ONG un tanto al chilo per caricare le persone che eh i disperati che poi alla fine della fiera sempre disperati rimangono. Ehm si trovano i soldi per progetti che poi sono appunto un pozzo nel deserto e e con cui è realmente ci può costruire non un pozzo ma ospedali con con quei con quei con quelle risorse ovviamente c'è anche il fatto che come hai affermato tu eh si tende a tenere l'Africa un continente povero perché eh è una terra piena di risorse eh dai diamanti all'oro alle terre rare che tanto ci servono ultimamente soprattutto in ambito di di processori e computer ecco dici un attimo tu che hai visto eh vivi sul campo per esempio l'Italia che ha un sacco di fondi a livello di cooperazione internazionale che che succede con questi soldi e come vengono investiti? Allora sicuramente eh diciamo adesso per lo meno in questi ultimi periodi sto stiamo notando che il MAE sta cercando di sforzarsi anche perché diciamo che il terzo settore nel dopo covid eh sta in serie difficoltà quindi adesso diciamo che si stanno anche sbloccando ulteriori bandi di cooperazione internazionale ehm io parlo da organizzazione piccola perché di certo diciamo possiamo avere magari un potenziale perché in otto anni abbiamo fatto molto abbiamo costruito un po' di tecnico universitario un ospedale scuole officine meccaniche quindi ci siamo dati da fare e lo abbiamo fatto ehm diciamo autosostenendoci non ho avuto neanche un soldo dal governo italiano o dall'Europa eh ma da tanti benefattori che credono in quello che noi che noi facciamo eh il problema reale è che poi ci stanno questi giganti queste ONG eh enormi che mh sono dei grandi pachiterni quindi quando partecipano i bandi è normale che se li aggiudicano tutti eh poi ripeto sarebbe interessante eh far condurre dal governo poi anche delle indagini su come questi soldi vengono spesi eh perché se put a caso questi soldi per un settanta ottanta per cento finiscono per mantenere la struttura e solo un trenta per cento entra nei territori io inizierei ad avere un pochino di tubi ehm è un po' sempre la solita la solita la solita lotta diciamo diciamo che in Africa realmente chi fa sono le piccole organizzazioni che stanno eh nei piccoli villaggi eh quello che io ripeto sempre ai miei è se noi riusciamo a salvare un villaggio sono morirò soddisfatto nel senso che eh siamo riusciti eh a fare il nostro e e devo dire che in otto anni veramente con grande stupore eh siamo riusciti a fare tanto e continueremo a fare tanto però mh ripeto c'è un po' una una nube di fumo eh su questi fondi dove finiscono come sono organizzati ehm bisognerebbe un pochino accertarsi di più no? Costruisci la scuola in Africa con dei forni di governativi sarebbe interessante che il governo facesse un bel viaggetto eh dove te hai costruito la scuola per vedere realmente come l'hai costruita che parametri hai costruito non solo tramite le carte e poi principalmente anche un altro problema è proprio il fattore della cooperazione cioè vedo che molte organizzazioni eh vanno lì per costruire la scuola ripulirsi diciamo eh la moralità e poi ritornano belli felici in Italia e e magari quella scuola due anni dopo non non c'è più no? Eh noi come politica abbiamo sempre utilizzato quella di costruire con loro quindi l'operario italiano con l'operario nigeriano l'ingegnere italiano con l'ingegnere eh nigeriano cioè cooperare insieme eh insieme a alle persone del posto no? Perché nel momento in cui abbiamo agito eh abbiamo formato per poter costruire la scuola ad esempio il chiaro esempio è quella delle officine meccaniche che abbiamo fatto che purtroppo i pastori fulani eh a maggio scorso ci hanno distrutto eh abbiamo costruito queste officine meccaniche tramite una donazione pervenuta dalla Nigeria quindi dai villaggi nigeriani che penso che è una delle cose più belle che mi sia capitata in tutta eh diciamo la la vita di Steadfast eh abbiamo creato queste tre officine abbiamo formato eh settanta ragazzi per poter lavorare nelle officine ma in quel territorio noi non torneremo più perché ci stanno già quelle tre officine con settanta persone formate che a loro volta devono formare altre persone e costruire altre officine questa deve essere diciamo eh l'idea eh dell'operare lì eh dare non il pesce dare una pesca e insegnare eh a una una canna da pesca e insegnare eh a pescare cosa che purtroppo non si vede non si vede sempre ecco grazie grazie Emanuele allora siamo verso la chiusura eh se qualcuno vuole aggiungere qualcosa prima di di chiudere e far rintrodurre da Daniele la prossima stagione eh che partirà col botto non vi diremo che cosa ma lo scoprirete e prego no un'altra un'altra precisazione tra i centri di accoglienza sicuramente ci sono molti che mi fanno storcere il naso ma ce ne sono anche altre tanti che invece fanno un ottimo lavoro quindi non volevo generalizzare la cosa però sarebbe interessante che insomma il governo italiano eh guardassi un po' più a fondo su come viene gestita questa eh questa problematica dell'immigrazione perfetto grazie Emanuele eh io volevo posso aggiungere una cosa? Prego 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 niente si si parla sempre di blocco navale di capacità di poter limitare il flusso incontrollato verso verso l'Italia e il blocco navale ovviamente se si fa si deve fare in maniera intelligente non come si è fatto a suo tempo con il governo Prodi in Albania e si deve fare eh in maniera mh organizzata non soltanto dal punto di vista militare ma si crea appunto una una coalizione di stati europei eh che possano in qualche modo identificare quelle navi che che da quei porti escono eh eh o quei barconi che escono eh in maniera incontrollata e in maniera illegale e lo si può fare dove? Nelle acque territoriali libiche cosa che si è fatto a suo tempo quando facemmo la guerra ai pirati in Somalia quando proprio la stessa operazione permise attraverso un colloquio franco e sincero con quella nazione la possibilità di utilizzare di usare di 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 sì di utilizzare le acque territoriali di quello Stato con con lo sconfinamento da parte dei navi militari per poter appunto eh combattere la pirateria e il fenomeno è stato praticamente azzerato quindi la stessa cosa si dovrebbe fare in Libia entrare nelle acque territoriali libiche con il consenso del governo in carica che è riconosciuto legalmente dall'Italia e dal consenso internazionale e cioè quello di Serraci che per l'altro è da lì che partono i barchini e bisogna ovviamente costringerlo ad accettare una posizione di controllo delle sue acque da parte della coalizione europea e in quel modo poi ovviamente arrivare fino a combattere le criminali le 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 attività criminali anche a terra su questo aspetto la l'operazione Sofia aveva come obiettivi eh proprio questi eh quelli di combattere prima nelle acque territoriali eh libiche il trafficante di esseri umani e poi anche a terra nel nella battigia per poter eh diciamo in qualche modo eh azzerare il il problema criminale cosa che non si è fatto per la mancata volontà dell'Unione Europea di autorizzare la marina militare e le marine militari ad ad attivarsi in quel modo quindi eh è un problema politico non certamente diciamo tecnico o militare che che non è stato portato a termine. Grazie Ammiraglio. Daniele per chiudere. Sì eh grazie ovviamente ai due eh relatori per i loro eh interessantissimi interventi eh molto stimolante anche il commento che ha fatto adesso Alessandro Mazzetti eh che ci dice sarebbe anche interessante sviluppare come immigrazione clandestina è oggettivamente un'arma simmetrica però sicuramente questo richiederebbe minimo un altro convegno eh e non abbiamo tempo. Eh un ringraziamento particolare a Bernard perché ci ha offerto eh in questi ultimi scampoli diciamo di stagione prima della pausa estiva la possibilità di approfondire diversi aspetti del tema immigrazioni e dopo la pausa estiva eh andremo avanti questo diventerà ormai già lo è diventato un appuntamento fisso abituale e quindi avremo veramente in modo di eh andare a fondo di questo fenomeno che è uno dei più discussi sulla bocca di tutti però è poco approfondito poi da un punto di vista eh fattuale e oggettivo quindi penso che questi appuntamenti siano fondamentali sul piano dei video eh abbiamo già lanciato anche il ehm video podcast la Volpe e Leone con ogni settimana ogni intervista a un esperto sul tema differente anche questo ha avuto un buon riscontro di pubblico e sicuramente lo riprenderemo dopo la pausa estiva lo rafforzeremo ma abbiamo in cantiere eh un netto rafforzamento di tutta l'offerta che che c'è dal punto di vista delle dirette social e dell'offerta video non dimentichiamoci poi il nostro blog invito tutti a a leggerlo quello va avanti non fa nessuna pausa eh ci sta dando molte soddisfazioni perché i lettori sono in costante rapida molto rapida crescita anzi voglio colgo l'occasione per ringraziare quelli che sono adesso sintonizzati o che vedranno poi la registrazione di questo incontro ehm ci ci motiva molto nel proseguire in questo settore e e poi ci sono tutte le altre attività che noi facciamo a partire dai report i convegni tradizionali che per ovvie ragioni sono adesso in sospesi ma speriamo di poterle riprendere al più presto possibile anche perché vorrà dire che la situazione eh in Italia è veramente tornata a normalità eh ecco adesso come anticipare comunque andiamo verso verso una pausa e e quindi lasciamo a tutti delle meritate eh quest'anno è veramente il caso di dirlo meritate eh vacanze eh di riposo estivo grazie Daniele grazie Ammiraglio grazie Emanuele grazie a voi grazie a voi e come come abbiamo detto un po' tutti insomma e come è stato affermato anche da un personaggio romano purtroppo gli immigrati oggi rendono più della droga ma il problema il problema qui non è che i soldi vanno a questi a queste persone al di là se poi scappano dalla guerra o meno è che vanno a ingrossare le fila prima degli spacciatori dei trafficanti di persone e dei trafficanti di armi e di droga dall'Africa in Italia e qua in Italia vanno a foraggiare queste diciamo organizzazioni che sono sono legali sulla facciata ma nella realtà servono evidentemente a qualcos'altro perché eh logicamente non è possibile una cosa del genere allora tutti farebbero queste attività qua e siccome tutti non lo fanno evidentemente c'è qualcos'altro ci lasciamo con questo punto interrogativo riprenderemo la stagione prossima e cercheremo anche di sviscerare questi elementi qui che a mio avviso insomma e credo eh insomma all'avviso ehm di chi si occupa di questo di questo ambito eh in modo concreto non ideologico eh vuole fare emergere eh per far appunto mettere al centro non il denaro ma anche qui ancora una volta le persone buona stagione buon fine stagione a tutti speriamo per molti di voi va possano andare in vacanza nonostante insomma questo governo faccia di tutto perché questo non accada e buona tirata a presto grazie a tutti buonasera